Covid-Abruzzo, boom di ricoveri, oltre 600, non accadeva dalla metà del mese di dicembre, ma come sempre facciamo il punto giornaliero in diretta il nostro Fabio Lussoso. Buonasera Fabio. Sì, buonasera Massimo. Come dicevi giustamente in apertura, preoccupare in questa fase è soprattutto il numero elevato dei ricoverati. Rispetto a ieri si registrano 438 nuovi casi positivi al Covid-19, di età compresa tra i 6 mesi e di 97 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi di età compresa tra i 53 e i 96 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 1 in quella di Teramo ed 1 infine in quella di Pescara. Il dato che crea maggior preoccupazione, come sottolineavi, è quello relativo al tasso di positività pari al 4,5 e soprattutto del numero dei pazienti ricoverati. Tra terapia non intensiva e quella intensiva si è superata infatti la soglia dei 600 pazienti. Intanto per contenere la diffusione del coronavirus procede anche la campagna di vaccinazione. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Berri, ha sottolineato proprio Samani in un comunicato nel quale sottolinea che non c'è nessuna criticità in Abruzzo. Ad oggi sono state somministrate il 78,5% delle dosi consegnate. Secondo quanto raccomandato dal commissario Arcuri, a causa dell'incertezza nella consegna dei vaccini, sono state messe da parte il 30% delle dosi per garantire la somministrazione del richiamo vaccinale. Intanto prosegue la vaccinazione degli ultraottantenni. Oggi alle ore 14 è partita anche a Chieti e provincia la campagna vaccinale. Negli ambulatori di Lanciano, Vasto e Chieti sono stati vaccinati i primi 200 anziani. Hanno manifestato intanto la volontà di sottoporsi a vaccinazione oltre 14.200 ultraottantenni, ovvero il 44,7% del totale. Così come ha sottolineato il dottor Angelo Muraglia, direttore generale della ASL numero 2 che possiamo ascoltare. E su questa intervista ringrazio Diego Martelli per il collegamento e ci salutiamo. C'è stata una buona partecipazione da parte della cittadinanza. Si sono regolarmente iscritti sulla piattaforma della Regione Abruzzo, ma già dal mese di marzo voi contate di avere un numero davvero significativo di vaccinazioni? Sì, sono state contattate naturalmente tutte le persone che avevano avuto accesso alla piattaforma regionale, si erano prenotate quindi per la vaccinazione Covid e quindi sono state contattate attraverso il nostro sistema di chiamata telefonica, attraverso il CUP, gli operatori del CUP. Siamo pronti dal primo marzo ad allestire, anzi abbiamo già allestito altre postazioni che ci permetteranno di avere una capacità vaccinale anche più di mille vaccini al giorno, naturalmente vaccini permettendo. Proprio su questo aspetto è importante ricordare come le ASL si siano già, come dire, attivate e preisposte per poter effettuare anche il richiamo fondamentale. Certamente, con la prima dose saranno dati anche gli appuntamenti per le seconde dosi e bisogna anche conservare naturalmente le seconde dosi. Dottor Molaglia per concludere, questa operazione è fondamentale per contenere la pandemia. È fondamentale sì, bisogna vaccinare quanta più gente possibile e speriamo appunto che tutte le forniture vaccinali promesse e secondo i piani settimanali che ci arrivano praticamente dal commissario siano appunto, siano poi effettivamente recepiti da noi e per poter poi naturalmente programmare anche le vaccinazioni. La programmazione delle vaccinazioni è un problema importante perché non è una vaccinazione semplice, è una vaccinazione che ha bisogno del richiamo. Chi ha bisogno di farlo in determinate settimane dopo determinati giorni dipende dal vaccino utilizzato, sia il Pfizer che il Moderna.